Sbrigatevi ragazzi! Voglio tornare a casa prima del tramonto! Ehi, potresti andare un po' più piano, per favore? È solo un piccolo temporale! Si trovo! Senti, è qui! Attento! Intrappolate! È così, vero? Nessuna paura. L'orientamento è il mio sesto senso. Attento! Ma stiamo ancora cadendo! Dai, venite! Signore e signori, ecco a voi il centro della Terra. È incredibile. Giù! La temperatura si sta alzando. Quanto tempo abbiamo? 48 ore, forse anche meno. Salite! Io sto davanti. Ragazzi, forse è meglio se mi leggete a qualcosa! Da quella parte! È lava. Si sta avvicinando! No! Non hai mai visto un dinosauro prima d'ora? Non con la pelle addosso! Non的話, ma è possibile tempo fa solo, ma poi... La cosa più vele addosso! Seguge! Arrallate! La parte mia è ricosa! La parte mia è la colonna! Non hai vedo! È non c'è! O選va! Ma Non c'è! Non c'è! Grazie a tutti.